Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo veramente in un video un po' particolare, non ho mai fatto un video del genere in vita mia su questo canale e sto per pronunciare anche una frase che chi segue da tempo questo progetto probabilmente ha già sentito diverse volte Benvenuti in un nuovo format ragazzi, vedremo quanto durerà questo format Spero il più possibile, è proprio studiato proprio a partire da questo episodio qui ed è un format che secondo me può interessare sia chi guarda solo l'anime che chi legge solo il manga, che chi guarda entrambi, ok? Che comunque sono probabilmente quelli che si godono One Piece il più possibile Ragazzi benvenuti nell'analisi dell'episodio 1070 di One Piece, finalmente parliamo dei tamburi della liberazione L'hanno fatto tutti tranne me, voi vi chiederete ma che fine ha fatto Marra? Anche oggi se l'avete notato non è uscito Tiro e Tiro e Non Mi per un semplice motivo ragazzi Io sono tornato ora in Italia e quindi sto registrando adesso il video del mercoledì che doveva essere un Tiro e Tiro e Non Mi Poi ve lo devo un Tiro e Tiro e Non Mi, mettetevelo in conto, prima o poi uscirà, ok? Prima o poi giuro che lo farò uscire, adesso volevo iniziare questo format Format che verrà messo in onda, diciamo così, il lunedì, ogni lunedì cercheremo di fare un video del genere E quindi il lunedì cosa andremo a fare? Andremo ad analizzare la puntata dell'anime di One Piece Però attenzione, Mera Mera è sempre stato pensato come un progetto dedicato a One Piece Soprattutto per chi legge il manga e quindi come collegare le puntate dell'anime al concetto iniziale di Mera Mera? Ecco, ho trovato la soluzione, diciamo che quello che ho fatto oggi, proprio qualche ora fa, è stato guardare l'episodio di nuovo Questa volta con i capitoli alla mia destra e vedere le sostanziali differenze tra anime e manga In molti si lamentano delle differenze che ci sono tra il cartone animato di One Piece e il manga vero e proprio Perché alcune sono veramente pesanti e quindi quello che faremo sarà proprio questo Visto che molti mi chiedete questa cosa qui riguardo l'anime, è una domanda che mi fate veramente in tantissimi Quali sono le differenze sostanziali? Ecco, le differenze a volte sono talmente leggere che non si notano ma a volte cambiano tutto Ed è esattamente quello che faremo in questo video ragazzi Siete pronti? Vi piace questa idea? Intanto scrivetemelo nei commenti se volete video del genere ogni lunedì Io sono abbastanza fiducioso di farcela, stavolta ragazzi non sarà un format che durerà tre episodi Cerchiamo di portarlo avanti, ovviamente sto parlando con me stesso in questo momento Ma ce la faremo, ovviamente il video di oggi si basa su un episodio che ha fatto un po' di scalpore E utilizziamo proprio lo scalpore di questo episodio per iniziare Tanto modo migliore per farmi sapere che questo format vi piace, vi interessa l'idea e vi interesserebbero altri video come questo E ovviamente lasciate un like e iscrivendovi, lo sapete benissimo ragazzi Comunque d'estate ci sta iniziare questi format per la nuova stagione che sta arrivando tra molte virgolette Alla fine io sono andato in vacanza, i miei video sono usciti lo stesso, quindi nuova stagione, niente Qua si continua dritti come i treni E oggi infatti iniziamo con questo episodio incredibile e partiamo proprio dall'inizio di questo episodio Inizio che ci presenta come protagonista assoluto Kaido Perché oggi è importante parlare dell'inizio di questo episodio? Perché questo è un caso abbastanza raro, non sempre succede, attenzione Ma questo episodio qui prende proprio per filo e per segno un capitolo intero Dall'inizio alla fine Il primo frame di questo episodio qui è identico alla prima vignetta del capitolo 1043 E la stessa cosa vale per il finale Il finale di cui andremo a parlare ovviamente tra poco, verso la fine del video Perché so che stai aspettando quello Ecco, è una cosa molto interessante Credo che in questo caso qui la Toei si sia affidata proprio alla volontà di Oda Per rendere il tutto il più epico possibile Per chi ha vissuto quel periodo lì come lettori di manga Sappiamo bene quanto effettivamente questo capitolo qua Che il 1043 per intenderci, così sapete anche voi di quale capitolo stiamo parlando È riuscito a creare hype nella community Io ancora oggi mi ricordo che dopo il 1043 ci fu una pausa Ovviamente perché quando ci sono le grandi novità c'è sempre una pausa di mezzo Ecco, dopo questa pausa poi uscì il 1044 con quello che vedremo nel prossimo episodio Quello che vi voglio dire è che semplicemente a quanto pare Almeno per questi episodi qui che sono importanti Stanno cercando di rispettare il tutto Almeno nel modo più ordinato possibile Sembra una cagata perché intanto lo stiamo dicendo nel primo episodio E quindi sembra una cosa molto lineare Ma in realtà ragazzi nell'anime questa cosa non viene rispettata quasi mai Di solito magari i capitoli certo cercano di terminarli dove termina un capitolo Però magari poi all'interno di un episodio fanno vedere due capitoli Oppure a volte succede il contrario Che è una cosa che a me veramente mi fa impazzire letteralmente Che un capitolo lo fanno in due episodi Che è una cosa secondo me Cioè io non so neanche io come fanno ma lo fanno Ecco in questo caso qui abbiamo una situazione molto molto bella E quindi io consiglio la visione di questo episodio Anche a chi legge il manga Perché proprio troverete delle cose del genere Alla fine questo episodio che cos'è? È la versione molto rallentata e tranquilla di quello che succede nel capitolo 1043 Quindi Kaido sconfigge Luffy non per merito suo ma per colpa della gente della CP0 È scioccato e lo uccide Qua tra l'altro utilizzano anche praticamente le stesse parole I stessi dialoghi Le stesse facce che vediamo all'interno del manga Fino a una scena di cui vi voglio parlare Della scena in cui Kaido decide di scendere dal tetto di Onigashima E arrivare nel campo di battaglia Qui optano tra l'altro per animare il drago Quindi la trasformazione di Kaido Con questa cosa 3D che hanno fatto più volte Lo fanno anche durante l'episodio per Momo Ok scelta loro Io non sono un grande fan di queste robe qui Qui finalmente Kaido annuncia La morte di Luffy Qua si vede la grande differenza secondo me tra anime e manga Io trovo il manga molto più dinamico Cioè l'anime proprio per far stare tutto Cioè un 17 pagine In 20 minuti rallentano un po' tutto Ecco nel manga la scena in cui Kaido annuncia il tutto È molto dinamica Nel senso che la gente Quasi tutti scoppiano a piangere Qui invece nell'anime vediamo questo momento di realizzazione Molto molto lento E non mi suscita le stesse emozioni Almeno nella scena centrale Per quanto riguarda appunto il reveal di Luffy morto Però c'è da fare comunque uno shout out alla Toei Perché ha riportato delle informazioni Anzi dei dialoghi proprio perfetti Proprio tirati fuori dal manga Cosa che ripeto non succede sempre Come per esempio questo qua riguardante Low In cui Low dice che non sente più la voce di Luffy Ecco è una cosa importante Nel manga succede E tra l'altro quando succede abbiamo la stessa identica immagine Quindi questo vi dimostra quanto ultimamente Almeno negli ultimi capitoli Stanno cercando di essere abbastanza fedeli Anzi direi fedelissimi almeno per questo episodio Al manga Perché comunque anche qui abbiamo questo collegamento Tra Low e questa voce delle cose Che ancora Oda ci deve spiegare nel miglior modo possibile Quando avrà voglia Ancora non ha voglia evidentemente Comunque alla fine Quello che succede in questo episodio Come vi ho detto Io l'ho trovato molto molto lento Proprio perché in realtà Queste sono scene che nel manga Te le puoi vedere tranquillamente Fino ad arrivare a una delle scene Clue di questo capitolo E di questo episodio Che è il discorso tra Momo e Yamato Un discorso che effettivamente Va a riprendere praticamente Anche in questo caso Quello che leggiamo nel manga Yamato fa questo discorso Che è un discorso Di una persona pronta a morire Difatti alla fine del discorso di Yamato C'è anche il nome del capitolo Che è We Die Together Noi moriamo insieme E qui finalmente ragazzi Il momento che tutti state aspettando Entra in scena Zunisha Zunisha che si ferma nel mare E inizia a parlare Ancora non sappiamo come Ma comunica Con Momo Nosuke Personaggio con cui A quanto pare Zunisha È molto legato Non si sa perché Non si sa per come Ma i due riescono a comunicare Ecco Zunisha Finalmente sente I tamburi Della liberazione Si sente i tamburi Della liberazione E finalmente Li sentiamo anche noi Tamburi che vanno a riprendere Un pochettino Quella che era la soundtrack Originale di One Piece Che ci accompagna Da praticamente quasi 30 anni Genialata Toei Perché è una cosa Che praticamente Hanno fatto Tutti i fan animator Durante quest'anno Di attesa Quindi bravi Perché è veramente Una figata E c'è da dire Che queste cose qui Che riguardano La musica Nell'anime Rendono da dio Comunque Alla fine sono dei tamburi Semplicissimi Ma sapendo che cosa Vogliono dire Per me Questa scena Spacca E arriviamo proprio Alla scena finale La scena In cui vediamo L'inizio Della trasformazione Del Gear Fifth Di Luffy E qua ragazzi Voglio dire una cosa Che probabilmente Alcuni estremisti Del manga Mi uccideranno Per questa cosa Ma secondo me I ragazzi Che sono anime only In questo caso specifico Si godranno Un po' di più La trasformazione Del Gear Fifth Rispetto a noi Rispetto a noi Che l'abbiamo vissuta Solo col manga E per vari motivi Intanto per l'hype Che c'è Perché oh Quando c'è tutto Quest'hype Intorno a One Piece Ma io sono felice Perché alla fine One Piece serve Proprio per divertirsi Anche per gasarci E ecco Questa trasformazione qui Gaza alla grande Tra l'altro Perché dico Che secondo me Se la godranno di più Perché noi Quando abbiamo letto Questo capitolo qua Che è il 1043 Io mi riferisco a questo Episodio come se fosse Un capitolo Perché ripeto È identico al capitolo E quando vi ha letto Anche il 1044 Che quindi dovrebbe essere L'episodio successivo L'episodio che uscirà Prossima settimana Avevamo molti Molti più dubbi Che effettivamente Rivelazioni Perché voi forse Avete rimosso Ma nel momento In cui uscì La prima immagine Della trasformazione Di Luffy Uscirono anche Le prime fan art Ecco Le prime fan art Io non so se ve le ricordate Come erano Erano con Luffy Con i suoi vestiti Con i suoi colori normali E con le fiamme Nei capelli Mentre adesso Quelli che sono Anime only Giustamente vedranno Già il design Di Luffy Così com'è Quindi tutto bianco Non è una cagata Anche qui Perché? Perché Se voi mettete In parallelo A questi due personaggi Ma Cioè stiamo parlando Di due cose Completamente diverse Perché quando noi Abbiamo visto Queste fan art E di fatto Non avevamo nessun riferimento All'inizio Proprio al capitolo 1044 Nessun riferimento Al colore bianco Tutti noi Per più di una settimana Abbiamo pensato Che i nuovi poteri Di Luffy Riguardassero Le fiamme E questa è una cosa Che ha accumulato tutti Per Più di una settimana E non dite che non è vero Perché è così È così Perché Dio del sole C'ha le fiamme in testa Diciamo che Poi Se mischiamo anche Quello che ci hanno rivelato Ovvero che Dell'assù Che è un Diciamo un potere Che riguarda L'assurdo Erano tutte cose Che ripensandoci adesso Non cozzano tanto bene Io ho Nella mia cartella Dedicata a One Piece In cui tengo le immagini Che utilizzo nei video C'ho ancora Le fan art Fatte in questo modo qui Ecco Viversi il manga Così Viversi l'idea Del Gear 50 In questo modo E viversela Nel modo in cui Se la vivranno I ragazzi che Sono anime nolli Secondo me Cambia molto Poi tra l'altro Io Spendo anche Gli ultimi minuti Di questo video Per dirvi una cosa Io personalmente Per rendere tutto più epico Visto che siamo Proprio Accavalcando L'hype Io non avrei Mai fatto vedere Un trailer Per il Gear 5 Cioè Questo deve essere Un reveal Allora tu c'hai il reveal Come ce l'abbiamo avuto noi Nel capitolo 1044 Ce l'hai Nell'episodio 1071 Così com'è Poi vabbè Ovviamente il trailer È stato fatto vedere A One Piece Day È stato fatto vedere Anche alla fine Di questo episodio Forse questa cosa Smorzerà un pochettino Gli anime only Perché sanno già Che cos'è Non c'è assolutamente Nessun segreto Nessun hype Dietro a Come sarà la forma Quindi l'unico hype È vedere Come animeranno il tutto E per questo ragazzi Io vi rimando A lunedì prossimo Spero che questo format Vi piaccia Ovviamente Abbiamo iniziato Nella maniera peggiore Perché questo dovrebbe essere Un format che va A individuare le differenze Tra anime e manga E questo episodio Era molto molto simile Essendo uguale Solo un pochettino Più lento Anzi Molto molto più lento Il prossimo sicuramente Sarà un po' più Fantasioso Hanno avuto un po' più Di libertà Ma l'abbiamo già visto Dal trailer Quindi ci divertiremo Molto di più Ci vediamo lunedì Allora ragazzi Mi raccomando Fate i bravi Noi ci vediamo prestissimo Con altri contenuti A tema One Piece Sempre qui Su Mera Mera E se vi va domani Con il capitolo Che dovrebbe uscire Già questa sera In caso entrate sul gruppo Telegram Noi comunque ci salutiamo ragazzi Mi raccomando Fate i bravi E niente Ciao a tutti